Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Filippo Giannatempo, che mi chiede di parlare del film di John Sayles, grande narratore di un certo tipo di America, un sceneggiatore, regista di ottimo livello, però quasi sconosciuto. Il film è Stella Solitaria 1996, un dramma in un certo senso, un western, un thriller tutto mescolato. La storia è questa, in un poligono di tiro vengono trovati praticamente un distintivo da sceriffo tutto deflagrato, un teschio umano e un anello massonico. Sam, lo sceriffo appunto della cittadina lì del Texas, decide di indagare. Fa in un ristorante messicano di questa Mercedes praticamente e chiede al sindaco Hollis che cosa può essere successo e questo sindaco comincia a raccontare la storia appunto di Charlie Wade, uno sceriffo considerato violento e tutto il resto che un giorno fu allontanato da Buddy. Ma andando sempre più giù e andando sempre più all'interno di questa storia, con flashback avanti e indietro, insomma scopriremo che in realtà c'è d'altro. Allora, il film è interpretato alla grande con Chris Christofferson che fa appunto una parte nel crudelissimo e cattivissimo Charlie Wade, poi c'è un Buddy che mi pare interpretato da un ottimo Matthew McConaughey e lo sceriffo Sam è un gigantesco Chris Cooper per un film comunque fantastico sotto il punto di vista secondo me del ritmo. Un film molto anni 70, molto nuovo Hollywood che racconta appunto la meschinità di un certo tipo di pensiero, il razzismo, l'impossibilità di stare tutti insieme, lo fa attraverso dei personaggi che si scoprono sempre di più diversi e che scoprono appunto anche nella loro famiglia, anche nel loro passato e nel loro presente o forse nel loro futuro un qualcosa che non si sarebbero mai aspettati, però una costruzione è comunque veramente notevole. Uno di quei classici film anticommerciali quasi per eccellenza che riescono a mescolare tanti generi e che arrivano fino in fondo, sicuramente non siamo di fronte a un capolavoro o John Sayles però è uno che sa fare quello che deve fare, ogni inquadratura è veramente ben studiata, gli attori se la danno, come ho detto la musica è molto bella. La fotografia di Stuart Reebok riesce a essere fantastica, ai momenti cupi riesce a veramente essere quasi gotica e poi si apre in realtà in queste forti colorazioni gialle, ocra che poi vanno a finire sempre sul rosso, molto classico western appunto. Per un film ripeto che secondo me funziona, funziona attraverso appunto uno sguardo molto particolare quello di un'America diciamo così del sud che viene raccontata attraverso appunto la storia che diventa leggenda oppure che può essere diventare verità ma cambiando la leggenda stessa e quindi il nostro poi si troverà di fronte veramente a una scelta molto difficile e poi verranno fuori cose come ho detto terrificanti anche del suo passato e cose particolari del suo futuro che gli cambieranno completamente la visione. Quindi per me è un film assolutamente da vedere, uno di quei classici film quasi irraccontabili, le cose che succedono sono importantissime, vanno seguite, tutto si intersecano e due o tre piani diversi sempre insieme. John Sayles sicuramente come ho detto è un film non esente da difetti, forse è un po' troppo lungo, forse è un po' dispersivo ma resta il fatto che è un film assolutamente interessante da riscoprire per chi ami questo tipo di ambientazione, appunto questa ambientazione così western nonostante sia ambientato nei nostri tempi, il film non è un western in quel senso però ha questa ambientazione, questi colori, questa voglia appunto di raccontare che è molto old west e in tutto dentro c'è all'interno appunto un thriller ed è un dramma che prende più famiglie, più persone che sia Mercedes che Spia Villar e anche le due perfette donne appunto inserite nel film, personaggi femminili fantastici per un'opera ripeto secondo me molto particolare che segna un'altra volta tutto il talento da sceneggiatore e regista di un John Sayles che insomma racconta un'America attraverso i suoi crimini, attraverso anche dei personaggi che sono assolutamente indimenticabili, perlomeno lo sceriffo Sam è veramente notevole e grandissimo, ripeto Chris Christoffers in una parte terrificante, quindi il link del film è qua sotto se c'è sempre, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante per ringrazi per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia, insomma questo Stella Solitaria è veramente un bel film, uno di quei classici film thriller drammatici che mescono appunto l'ambientazione western che fino alla fine ti tengono col fiato sospeso, che riescono a creare la tensione, riescono a creare il dramma, tutto senza mai affaticare lo spettatore nonostante appunto la durata un po' eccessiva.